Buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'informazione di Udinese TV. Apriamo il nostro telegiornale con due gravi incidenti che si sono verificati questa mattina nel nostro territorio. Il più grave a Buia, dove si è verificato un sinistro, purtroppo con esito mortale, è successo questa mattina verso le nove e mezza all'altezza di via Ursinins, dove una Peugeot, che vedete purtroppo nell'immagine, si è immessa lungo la Osovana ed è stata travolta da una Ford Fiesta. L'uomo che era alla guida, un settantenne di Buia, è morto, è stato sbalzato sul sedile posteriore ed è morto sul colpo. Grave anche una donna coinvolta nell'incidente. Sul posto ci sono stati i vigili del fuoco, l'ambulanza e anche l'elissoccorso. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Coinvolte queste due autovetture che vedete nell'immagine. Invece questa mattina all'alba, prima delle sette, c'è stato un incidente stradale con tre feriti a Madrisio di Varmo. Il sinistro si è verificato lungo la ferrata. La provinciale 95 ha coinvolto due veicoli. Erano, come detto, prima delle sette di mattina, quando le due auto si sono scontrate. Una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo. Come vedete, sono intervenuti i vigili del fuoco per toglierla dall'interno dell'auto e affidarla ai sanitari. Sul posto l'ambulanza e l'elissoccorso. Una delle due persone coinvolte era incosciente, quindi era più grave. È stata trasportata con l'elicottero. Invece l'altra, sempre ferita in maniera seria, è stata trasportata dall'ambulanza. Come detto, intervenuti i vigili del fuoco di Latisane di Codro e poi il personale sanitario del 118 con l'elicottero. Diversi disagi alla viabilità che si sono verificati per questo sinistro, anche perché era un orario in cui c'è molto traffico mattiniero. Come vedete dallo scatto dei vigili del fuoco per gli spostamenti casa-lavoro. Adesso invece, lasciamo la cronaca, torneremo fra poco con una notizia che arriva da Gorizia, ma parliamo di quella che è una giornata decisiva per la nostra regione, perché dovrebbe arrivare oggi l'ufficialità della zona gialla, che poi alla fine verrà bypassata dal provvedimento che ha lo studio da parte della regione, del governatore Fedriga, per anticipare le regole nazionali sul super green pass. arrivano i primi dati ufficiali del monitoraggio settimanale, perché ci sono dei dati che ci penalizzano in quello che è il bilancio settimanale del Ministero della Salute, in primis l'incidenza, perché la provincia di Bolzano e la nostra regione registrano questa settimana i valori più alti dell'incidenza di casi di Covid-19. In provincia autonoma di Bolzano ci sono 458 casi virgola 9 per 100.000 abitanti, mentre in Friuli Venezia Giulia 346 casi virgola 4 per 100.000, così dice il monitoraggio settimanale, che classificherebbe però una sola regione, da quello che si è appreso al momento, come rischio alto, ed è il Veneto. Intanto le Friuli Venezia Giulia e le Marche registrano valori sopra la soglia di allerta per l'occupazione dei posti letto e il 10% in particolare delle terapie intensive. In Friuli si registra il valore di occupazione del 16% e le Marche, che ci seguono, però con l'11%. La provincia autonoma di Bolzano invece ha un valore del 10%. Per quel che riguarda l'occupazione dei posti letto in area medica, valori sopra la soglia sempre per la nostra regione, siamo al 19,5% invece del 15% e la provincia autonoma di Bolzano che ha il 16,2% rispetto al valore soglia, che è del 15%. Sale anche l'incidenza a livello nazionale, 125 per 100.000 abitanti. La settimana scorsa era del 98, numeri comunque lontanissimi rispetto a quello che riguarda la nostra regione, che come detto ha 346,4 come incidenza settimanale dei nuovi casi. Mentre sale l'incidenza in tutto il paese preoccupa la nuova variante identificata in Sudafrica, tanto che l'Italia, con una ordinanza urgente del ministro Speranza, ha bloccato gli ingressi da alcuni paesi africani per 14 giorni. Lo ha detto proprio il ministro, ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia. Chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica? L'Esoto, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e Eswatini, così recita l'indicazione del ministro, proprio per l'identificazione in Sudafrica della nuova variante del virus, che avrebbe numerose mutazioni della proteina Spike, che porterebbero teoricamente ad aumentare la trasmissibilità e la capacità di eludere gli anticorpi. denominata B.1.1.5.29, è già sotto la lente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per ora la classifica tra le varianti da monitorare. Ancora troppo pochi dati disponibili. Secondo l'Istituto Nazionale della Salute della Sudafrica, la presenza della variante è stata documentata col sequenziamento in 22 casi positivi, ma molti altri vengono confermati in questi giorni da diversi laboratori del paese. Quattro casi sarebbero stati individuati anche in altri paesi, come il Botswana e uno a Hong Kong, in un viaggiatore di ritorno dal Sudafrica. La comunità scientifica si è già attivata per cercare di completare in fretta l'identikit di questa variante. Dall'Imperial College di Londra parlano di un incredibile numero di mutazioni della proteina Spike, che suggerisce come questa variante potrebbe destare particolare preoccupazione, anche se al momento i dati sono troppo pochi per trarne delle conclusioni definitive. Intanto ripartono le prime dosi per le vaccinazioni, sono state 25 mila nella giornata di ieri in tutta Italia, quindi continuano le persone che si vogliono vaccinare, mentre si è alle prese anche con le prenotazioni delle terze dosi, che possono essere prenotate con cinque mesi di distanza dall'ultima somministrazione. Per venire incontro alla grande domanda di vaccinazione della popolazione, con l'obiettivo di garantire il massimo accesso possibile, con l'intento e l'impegno di tutti i professionisti sanitari. Nelle prossime due settimane sono stati aperti ulteriori 26 mila posti in tutta l'azienda sanitaria Friuli Centrale, sia per l'ente Fiera di Martignacco, vedete proprio le immagini del centro vaccinale, che a Gemona, nel centro Le Manifatture, oltre che l'ospedale di Palmanova. Saranno disponibili i vaccini Pfizer e Moderna, entrambi al pari, valevoli per la vaccinazione booster. Le prenotazioni saranno possibili a partire da questa mattina. Sono inoltre previste nelle prossime settimane anche sedute aggiuntive per i dipendenti delle diverse sedi aziendali. Dal 29 di novembre in Carnia riapriranno i centri vaccinali di Vallata, Tolmezzo, Ampezzo, Paluzza, Paularo e Ovaro, per la somministrazione delle dosi booster. Intanto i carabinieri della NAS sono impegnati in tutta Italia nei controlli e nelle verifiche sull'obbligo del Green Pass per l'accesso a determinati servizi e al lavoro, quest'ultimo dal 15 ottobre, da oggi hanno controllato oltre 12.000 attività ed esercizi, contestando 778 violazioni, il 6,5% di irregolarità, delle quali 428 ad attori di lavoro o titolari di attività commerciali che non hanno controllato il certificato verde, 350 invece le sanzioni che sono andate a clienti e utenti e 68 ai dipendenti. Per quel che riguarda la nostra regione ci sono stati 86 controlli in tutte e 4 le province, 12 a Trieste, 38 a Udine, 11 a Gorizia, 25 a Pordenone, 21 le sanzioni somministrate per quel che riguarda la mancata verifica di Green Pass, 7 per l'igiene riscontrata nei locali e 4 a Trieste anche per la presenza del Covid. Nel corso dei servizi che sono cominciati nel 15 ottobre i carabinieri hanno controllato circa 400 persone in tutta la regione. E a proposito di controlli fa discutere molto la norma del governo che prevede l'utilizzo del Green Pass, diciamo classico, non quello rafforzato per l'utilizzo del trasporto pubblico locale, controlli difficili a campione. Sentiamo che cosa dice chi è responsabile del servizio pubblico locale come la Presidente dell'Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia. Come si organizza APT a fronte delle novità che riguardano il trasporto pubblico locale? APT non si organizza ancora perché, come avete sentito, manca ancora la circolare attuativa. Sono state date delle indicazioni, attualmente prive di operatività, perché non si è ancora deciso se i controlli potranno essere alla fonte, c'è all'ingresso, se gli controlli saranno random sugli autobus. Di fatto c'è una sorta di pandemia, una confusione di idee su cosa si farà per attuare una misura. Chi dovrà fare questi controlli, peraltro? C'è stata stamattina, io quello che vi ripeto, è quello che capto dalle notizie della stampa, dalle notizie dei telegiornali, delle trasmissioni televisive. C'è stata una nota dei sindacati che hanno riferito la impossibilità per i controllori a bordo di poter fare anche il controllore del Green Pass. Quindi noi sappiamo che questa parte non potremmo utilizzarla. Sappiamo anche, perché non viviamo nel mondo che non possiamo attingere alle forze di polizia, sappiamo anche che non sarà possibile demandarla alla polizia locale. Quindi mi chiedo, e chiedo anche a loro, chi custodirà questi, chi sarà il controllore di questo controllo del Green Pass. Quindi non si partirà comunque dalla prossima settimana, anche se entro lì Venezia e Giulia sarà anticipato il Super Green Pass? Non si partirà, credo che non si partirà mai. Quindi, perdonatemi anche un po' il pessimismo, perché sono regole di condotta che per essere attuate devono essere innanzitutto chiare. Se non c'è la chiarezza a monte, a valle, è impossibile che si possano attuare delle regole di condotta. Per quanto riguarda invece la ricerca di conducenti, voi nelle scorse settimane avete emanato un bando per trovare nuovi conducenti a causa appunto della necessità del Green Pass. A che punto siamo? Stiamo cercando, siamo cercando di ogene con la lampada, continuiamo a cercare. Non è facile perché vi è un tasto dolente e anche qua l'emergenza ha semplicemente fatto evidente anche le carenze che c'erano anche prima e anche la riformulazione di un nuovo modo di trasportare. Però per quanto riguarda l'emergenza autisti ci stiamo attrezzando, ma non abbiamo ancora l'organico completo come emergenza necessiterebbe. Preoccupazioni nel merito anche da parte dei sindacati, sentiamo allora qual è il parere di chi lavora nel settore e che dovrebbe essere incaricato anche dei controlli. Anche la Filt CGL del Friuli Venezia Giulia teme caosi e rallentamenti a seguito di questi controlli sul Green Pass nel mezzo dei trasporti pubblici. Sì, certo che sì, nel senso che visto il clima che c'è nel Paese in generale rispetto a queste tematiche, ovviamente il fatto dei controlli sui mezzi pubblici non può, c'è il rischio, comporta il rischio che ci siano episodi naturalmente di scontri, naturalmente speriamo ovviamente di no, ma è una possibilità che esiste. Ecco, uno dei nodi è chi controllerà questi controlli, a chi spetteranno? Ancora non è assolutamente chiaro, nel senso che non ci sono assolutamente disposizioni precise. Noi diciamo che sicuramente non potrà essere fatto dagli autisti e che ci dovrà essere del personale dedicato. Ovviamente ci saranno molte difficoltà nel poterlo fare, se si vuole fare a tappeto, immagino che sia impossibile farlo. Vediamo che disposizioni verranno date. Anche Filt e CGL ha rimarcato già in passato la difficile situazione per la carenza di autisti, quindi adesso si vedrà anche il problema degli operatori destinati ai controlli. Sì, certo. In questo settore abbiamo una cronica carenza di autisti per motivazioni già risapute relative come dire al trattamento economico e normativo, alle responsabilità, alla gravosità del mestiere, secondo noi non pagata adeguatamente. Ovviamente questa ulteriore situazione aggrava ancora di più la situazione in cui si trova il settore. C'è chi dice che è già difficile controllare i biglietti di viaggio, figurarsi anche richiedere Green Pass anche con le tensioni sociali che ci sono in merito anche a questi provvedimenti. No, secondo noi, appunto ribadiamo che è molto complicato, secondo noi ci deve essere del personale che è sufficientemente attrezzato per farla, questo tipo di attività di controllo. Il sindacato ha delle proposte che potrebbero aiutare ad agevolare i controlli, la situazione? Sì, ci sarebbe sicuramente qualche soluzione, perlomeno parziale, ovviamente che passerebbe attraverso l'informatizzazione del sistema della bigliettazione, una cosa che aiuterebbe sicuramente potrebbe essere per esempio l'integrazione tariffarie tra i mezzi da trasporto pubblico locale su gomme e i treni, per esempio i treni regionali. E questo potrebbe essere per esempio, se non altro per la fascia più giovane della popolazione, una soluzione che potrebbe aiutare. Intanto si aggrava la situazione da Covid-19 in Germania, situazione molto seria, ha detto la cancelliera uscente, non dobbiamo sovraccaricare gli ospedali. Sentiamo una parte del suo intervento di ieri. Sì, ci sarebbe sicuramente un'ottima cosa che vogliono direttore. Sì, ci sarebbe sicuramente un'ottima cosa che vogliono ancora più attraverso l'integrazione. Sì, ci sarebbe sicuramente più attraverso l'integrazione di più attraverso l'integrazione. e anche con Olaf Scholz. E ci sono anche il esperto dell'experto. È un paese traurigere il giorno, per cui abbiamo 100.000 Opferi del coronavirus. Leidera ci sono ancora più di 300 Tote al giorno. Questo correttamente con la quantità della infezionale. Non è chiaro, ma è chiaro, perché siamo ancora in un'esponenziale crescente. E perché i fatti, che vediamo oggi, sono i intensivi di 10 o 14 giorni. E per questo è la tazione, che abbiamo bisogno di preoccupare, che non ottenere i nostri spazionati, è un punto molto importante. E ogni giorno c'è il giorno. E a proposito di Europa e di paesi a noi vicini, ieri è stato siglato un importante trattato con la Francia. Ne ha parlato il premier Mario Draghi, che ha detto siamo uniti da valori comuni, diritti ed europeismo. Ieri poi c'è stata la conferenza stampa al termine dell'accordo. Era presente anche il presidente della Repubblica, Mattarella. Però sentiamo le parole di Draghi. Noi Italia e Francia condividiamo molto più dei confini. La nostra storia, la nostra arte, le nostre economie, le nostre società si intrecciano da tempo. Le istituzioni che abbiamo l'onore di rappresentare si poggiano sugli stessi valori repubblicani, sul rispetto dei diritti umani e civili, sull'europeismo. Tra i nostri padri politici ci sono Jean Monnet, c'è Robert Schumann, c'è Altiero Spinelli, c'è Alcide De Gasperi. Da Standal a Umberto Eco, da Mastroianni a Belmondo, a Claudia Cardinale, siamo pieni di ricordi e riferimenti comuni. Ogni giorno questi rapporti si arricchiscono di nuove esperienze di formazione, di lavoro, di vita. Torniamo adesso al nostro territorio e alla cronaca. Ieri, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ne abbiamo parlato anche noi, ma da Gorizia arriva una notizia in merito, perché proprio in coincidenza di questa giornata la Polizia di Stato è stata impegnata nell'arresto di un uomo, un 47enne di origini marocchine, per atti persecutori. L'attività è stata effettuata dalla squadra volante dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico e ha avuto inizio il 24 novembre, quando un equipaggio in servizio di controllo del territorio è intervenuto nei pressi di un bar di Gorizia su richiesta di una donna che veniva importunata dall'ex compagno. L'uomo, residente a Gorizia, con numerosi precedenti penali e di polizia, era stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'ammonimento del questore per ripetuti atti persecutori nei confronti della donna. In particolare il provvedimento si era reso necessario perché dopo la conclusione della loro relazione l'uomo aveva messo in essere ripetuti atti persecutori della donna, l'aveva seguita, aspettata al luogo di lavoro e le suonava insistentemente il campanello dell'abitazione. Nel corso dei controlli è emerso che lo stesso uomo si era reso nel recente passato protagonista di altri due episodi analoghi per i quali è stato denunciato. dopo i vari accertamenti, l'uomo è stato tratto in arresto e portato alla casa circondaliare Bigazzi di Gorizia. Considerato che i fatti si sono svolti nelle pertinenze di un locale pubblico, all'uomo è stato anche notificato l'avvio del procedimento per la misura di prevenzione prevista dal decreto Salvini e quindi l'inibizione della frequenza dei vari luoghi dove si sono verificati gli atti persecutori per un determinato periodo di tempo. Adesso invece parliamo di un'iniziativa benefica ovvero quella relativa alla giornata nazionale questa volta della colletta alimentare in programma domani sabato ma proseguirà poi anche online. C'è in esterna per noi Monica Nardini nella sede di una delle associazioni che si occupa di questa raccolta e che è in prima linea proprio per garantire il successo dell'iniziativa. Buongiorno Monica, ben ritrovato. Buongiorno da Pazian di Prato, dalla sede dell'Associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia, accanto a me la portavoce Clara Braidotti perché anche questa organizzazione non profit, come una ventina d'altra in tutta Italia, è pronta a dare il proprio contributo in occasione proprio della giornata nazionale della colletta alimentare 25esima edizione, domani in presenza ma che proseguirà anche in varie modalità. Sì, siamo contenti e orgogliosi di riproporla in presenza dopo due anni perché crediamo che sia un gesto importante dal valore educativo e concreto che possono fare tutti. Per cui l'invito è quello di andare a fare la spesa domani 27 novembre in tutti i punti vendita che espongono il manifesto e in modo così da donare gli alimenti al Banco Alimentare alimenti che verranno distribuiti poi a tutte le associazioni caritative che sono convenzionate con noi. L'altra modalità, la novità di quest'anno, è che la colletta è ibrida diciamo così, perché oltre alla modalità solita del volontario che riceve la spesa da chi viene a fare appunto la spesa nel punto vendita è anche la colletta cosiddetta dematerializzata che inizierà dal 28 novembre fino al 5 di dicembre con la quale si può acquistare una gift card del valore di 2, 5, 10 euro direttamente alle casse dei supermercati che espongono il totem della colletta alimentare. Questa card verrà tramutata poi direttamente in alimenti l'intero valore verrà appunto tramutato in alimenti che arriveranno presso il Banco Alimentare. La terza modalità è quella di fare la spesa online e tutte le iniziative in questo senso vengono descritte bene sul sito colletta.bancoalimentare.it e per ogni informazione quindi si può consultare il sito e anche per i punti vendita aderenti alla colletta di domani. Ricordiamo quali sono i prodotti di cui c'è più bisogno? Allora i prodotti di cui c'è più bisogno sono proprio fotografati sulla locandina quindi sono chiaramente riconoscibili e sono gli omogenizzati alla frutta, il tonno e la carne in scatola e i pelati e l'olio che sono gli alimenti che ci mancano in questo momento. Quindi è un'indicazione chiaramente ogni cosa che verrà donata e ben accetta questo chiediamo nello specifico perché altri prodotti ci arrivano da altri canali di approvvigionamento e quindi per il momento ci siamo sentiti di fare questa proposta. Ultima cosa Clara, quante famiglie, quante persone riuscirete a sostenere grazie a questa raccolta tendenzialmente anche come saranno distribuiti questi prodotti? Allora il Banco Alimentare si avvale dell'aiuto di 317 strutture sono circa 250 in Friuli Venezia Giulia proprio nel territorio regionale riusciamo a raggiungere più di 30.000 persone alle quali si aggiunge però quel migliaio che in diverse ondate abbiamo dovuto aiutare con le conseguenze del Covid in questo ultimo anno e mezzo. Ora la situazione rispetto allo scorso anno come vi appare? Allora appare stabile rispetto a quest'estate quindi non ci sono stati gravi peggioramenti o segnalazioni particolari. Chiaramente restiamo di guardia perché ci aspettiamo insomma un peggioramento anche con l'evoluzione poi di tutto questo processo conseguente la crisi economica dopo il Covid. Noi siamo pronti, stiamo lavorando al meglio, ci stiamo potenziando in tantissimi modi e comunque chiunque volesse darci una mano è il benvenuto. Ci potete trovare a Pazian di Prato o raggiungerci appunto attraverso il sito e i social. Grazie a Clara Braidotti, rilanciamo l'appello anche noi ovviamente a sostenere il Banco Alimentare che la colletta alimentare la giornata nazionale di domani nelle varie modalità. Grazie, allora alla nostra ospite a voi la linea. Grazie, grazie Monica. Anche noi ovviamente ci uniamo all'appello di partecipare a questa importante raccolta e a proposito di raccolta ma soprattutto di riciclo è stata presentata un'iniziativa della Regione che prevede proprio il riciclo delle capsule di caffè. è un'iniziativa che è stata presentata ieri in Regione che ha preso il via e durerà tre mesi coinvolgendo i comuni di Trieste, Udine, Campoformido e Pazian di Prato con modalità diverse di conferimento delle capsule esaurite che saranno raccolte in un sacchetto confezionato e messo a disposizione dei cittadini. La Regione metterà a disposizione degli uffici URP a Trieste e a Udine e a Udine saranno utilizzati anche gli sportelli della Netin via Le Duode e via Gonarse mentre le capsule andranno consegnate al centro di raccolta di via Stiria. Nei comuni invece di Pazian di Prato e Campoformido la raccolta avverrà con il sistema delle porta e porta attraverso il gestore AET2000. I cittadini che aderiranno al progetto riceveranno al proprio domicilio il sacchetto Recap, un piccolo contenitore per la raccolta in casa, un bidoncino per l'esposizione stradale e l'informativa con tutte le modalità di raccolta. In questo caso appunto ci sarà il riciclo di queste capsule ad hoc con la collaborazione di due grandi player del caffè come Illy Caffè e Nestlé e con i gestori dei rifiuti che sono stati coinvolti nel progetto che è stato presentato ieri. Allora sentiamo l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimar. Passiamo dalla poesia alla prosa e andiamo nello specifico a mettere insieme due grandi colossi del caffè con tre società regionali di raccolta e riciclaggio dei rifiuti per andare nel senso di questo progetto Recap che andremo ad utilizzare le cialde di plastica del caffè. E' una cosa innovativa, siamo i primi certamente in Europa e va nel senso di quella che è il riciclo e l'economia circolare. Quindi andiamo nel dettaglio, nei fatti a poter riciclare questi materiali. Adesso invece siamo alla pagina sportiva con l'Udinese che si appresta ad affrontare il Genoa in occasione dei festeggiamenti per il 125esimo anno dalla fondazione. Un clima sicuramente di festa ma Gotti, il tecnico, ha in testa solamente la migliore formazione da mettere in campo per vincere ed evitare che il Genoa rovini questa importante occasione. Vediamo. In casa Udinese c'è un'atmosfera particolare con l'animo diviso tra la necessità di fare punti a tutti i costi e la voglia di festeggiare al meglio le 125 candeline spente da parte del sodalizio friulano. Contro il Genoa sarà una partita da vivere tutta ad un fiato ma non è da sottovalutare nemmeno tutto il contorno per una festa che è già cominciata all'inizio di questa settimana. Già tante le testimonianze delle vecchie bandiere bianconere da Giacomini a Zaccheroni passando per Dalcin e tanti altri. Soltanto un antipasto in vista della giornata di domenica in cui tanti risponderanno presente all'invito dell'Udinese e ci saranno la Dacia Arena per far sentire la vicinanza alla squadra con la quale hanno condiviso un percorso speciale. Ci saranno anche le massime autorità del calcio italiano come Gravina, Dalpino, Abodi. Sarà un momento a suo modo indimenticabile come lo era stato quello di cinque anni fa con il gol di Danilo allo scadere per la vittoria sul Bologna in concomitanza con il 120esimo compleanno. L'Udinese farà festa prima, certo, ma vuole farla anche dopo superando il Genoa e qui si passa alle tematiche di campo. Gotti sa di non poter abbassare la guardia ed è certo che anche durante la cena di gala i suoi pensieri fossero proiettati alla formazione da schierare in campo domenica all'ora di pranzo. Contro ci sarà un Genoa falcidiato dalle assenze, partito con una sconfitta dopo il cambio di guida tecnica ma che sicuramente verrà con l'intento di guastare la festa ai bianconeri. Possibile si torni alla difesa a quattro come è successo contro il Sassuolo per superare la tentazione di mettersi a specchio rispetto ai rosso-blu. C'è traffico in avanti anche se non sembra in discussione la maglia da titolare per Beto, De Lofeo, Pereira così come quella di Wallace a centrocampo e quella dei tre difensori Bekao, Nuitink e Samir in difesa. Molina, Arslan e Forestieri più di possetto potrebbero completare l'undici ovviamente insieme a Silvestri ma Gotti ci penserà fino all'ultimo per scegliere chi sarà più in forma. Questo era il nostro ultimo servizio però vi ricordo quali sono i programmi sul nostro canale quest'oggi con l'informazione del nostro telegiornale che ritorna a scadenza regolare quindi alle 16, alle 19 e poi alle 22 e 30. Nel pomeriggio si parlerà della storia degli incontri fra Udinese e Genoa alle ore 14 invece alle 15 la nostra diretta per seguire l'allenamento pomeridiano in casa bianconera. Alle 19 e 30 Tam Tam con Alberto Terasso, alle 21 invece. Benvenuti alla Bargiggia, il consueto appuntamento del venerdì, prima a Tu per Tu con la storia insieme a Guido Gomirato e la storia a tinte bianconere. Questo è un po' il programma di questa giornata, io vi lascio le previsioni del tempo per quest'oggi, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon venerdì e un buon fine settimana in nostra compagnia. In un ambiente elegante nel cuore di Udine, Bortolin Gioielli presenta i più prestigiosi marchi nel mondo dell'orologeria e della gioielleria e un vivace spazio dedicato a Dodo, brand giovane e innovativo. Bortolin Gioielli si completa con la boutique Mont Blanc e con lo shopping shop Pandora dedicato al mondo dei gioielli in argento. La boutique e lo shopping shop si affacciano su Biari Alto e insieme alla nuova gioielleria creano un nucleo brillante in uno dei punti più belli del centro storico di Udine. Un saluto agli amici di Udinese TV e ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì caratterizzato ancora da instabilità su tutto il Friuli Venezia Giulia per una perturbazione proveniente dal nord Europa in transito verso est. Nel dettaglio quindi sulle province di Pordenone e Udine avremo una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi e piogge che insisteranno su entrambe le province un po' durante tutta la giornata. Temperature massime non oltre gli 8-10 gradi. Anche sulle province di Gorizia e Trieste starà una giornata caratterizzata da maltempo con cieli nuvolosi e piogge che insisteranno fino a sera su entrambe le province. Temperature massime non oltre i 10-11 gradi. Con questo è tutto, per dettagli maggiori potete scaricare e consultare l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.